io sono nuova a fare video allora io vi vorrei dire che sono nuova a fare video e che ora voglio fare velocemente a fare questo video perché sennò il video non si carica e vi farò vedere le mie cose di violetta allora cominciamo da questo che è un mio come si chiama è una cosa creata da me allora il coper è che così mi piace tanto come l'ho fatto aspettate che ho fatto allora poi è così qui c'è questo vi lave un stickers così poi così così è una cuffia poi così e poi questo scusatemi ma faccio veloce come vi ho detto allora dentro c'era questo che non che non c'entra niente è di barbi ha un profumo molto buono alla fragola poi dentro ci mettiamo anche questo che è un taglioaggi dei polaretti e qui ci sono le istruzioni dietro allora poi ho il digital card questo è di francesca che di francesca numero 28 francesca micotto poi questo è di cani si è di rubinila numero 77 a bacio poi ho questa di diego emforia numero 7 con diego e poi ho questo love cool violetta e di diego numero 52 e così e diego violetta poi l'ultima è questa con francesca diego leone violetta my best show numero 68 poi dentro c'è un'intero sempre questo nooo non male mi dispiace scusatemi allora le cuffie di una bambola di violetta, le cuffie, e poi due chiavi che sono nella mia bicicletta, poi le chiavi del mio diario segreto con il lucchetto che dopo vi farò vedere. E beh, ci sono queste cose, poi, no, ci sono tutte queste cose che vi ho fatto ora vedere erano dentro questa scaccia donna. Allora poi ho questo, che sono i stickers, tanti stickers nel mondo di violetta, con il logo, così, così. Allora dentro ci sono gli stickers che io ho staccati tutti. Comunque ho degli stickers. Aspettate che metto bene. Eccomi ho sistemato tutto, ok? Poi vi farò anche vedere questa, che è la bambola che vi parlavo, che vi parlavo, con le scarpine, i suoi vestiti, ed è la prima serie, perché l'ho avuto da solo per Pasqualone di violetta. Allora, i capelli spettinati ovviamente, però dopo aver fatto il video lo rifaccio per strumenti per il corso, che ora non vi faccio vedere perché, come ho detto, vado di, devo fare velocissimo, come per così. Chiedete se volete la ricerca. Poi andiamo dai libri. Allora, io ho questo, il libro, il libro di violetta, che qui c'è scritto Love Music, mi mancava soltanto Passione, perché non ce l'ho attaccato io. Con questo articolo c'è scritto il mio nome, con la violetta, e con questo sticker, che ho la carta, che ve lo prendo da qui. di aria 10 mesi. Allora, dentro è così. E così. E dietro è così. Poi, si è aperto il vaso nel super Pasqualone di violetta, è questo. Che è di violetta, si, che si apre. Si apre. Io pensavo che si apreva così con la cala menta, però si apre a libro. Allora, è così. All'effetto, perché come vedete ora, è lucidante. è lucidante. Allora, dentro è così. 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 Scusate che è questa. Così. Poi è la stessa cosa. Allora, l'ultima, non sia l'ultima. Poi è questo. Il mio diario. E l'ultima. Qua dentro. Poi è questo. Il mio diario. E le chiavi. che ora aveva già da cura. Io me le metto lì le chiavi, perché un giorno mia mamma ha quasi aperto il diario. e spero mai che ho subito la fermata. Allora. Mi ha regalato il mio babbo per il mio compleanno. Ecco. Io non ci scrivo così tanto, perché io non ho così tanti segreti. No. Non ho così tanti segreti. Comunque. Comunque. In questi giorni ho tanti segreti. Quindi un giorno mi metterò a scrivere. Ehm. Guarda la prima serie. Quella chiavi. Poi. Poi. Insomma al diario. Ci avevo trovato due lapis. Di violetta. Un righello. Perciò che vi farò vedere. E un temperino. E dei stickers che non so dove sono. Non ve lo faccio vedere. Allora. Per esempio. Allora. Con il mio nome. Laura. Comunque. Come dice. Scusatemi che non potete vedere. Però. Questo è anche il mio nome. Ehm. Qui è viola. Ops. Capito? Allora. E poi. E poi. E poi. E poi. Ah si. I righello. Aspettatemi. Ecco. Questo è il righello. E poi. E poi. Ho questo. Che è sempre di violetta. Che ho trovato in un. Un piccolo uovo. Un piccolo. Un piccolo. Un piccolo. Un piccolo. Allora questo scritto love e questa strana cosa un fumetto che sarà male, non capisco ancora che cavolo sarà, comunque poi è questo con violetta che lo attaccherò in una creazione che vi farò vedere quando lo farò, un'altra dimicrazione diretta, comunque aspettate che ho fatto questo dentro, ma dove cavolo è? Allora, un giorno vi farò anche vedere chi sarebbe questo La metto sempre qui dentro perché ho paura che non si parla Allora, allora, l'altro, l'altro Beh, io non ho più niente di violetta, comunque no, non ho più niente di violetta, però ho poche cose di violetta, lo so E ho, nel telefono ho anche l'app che ora non vi posso fare vedere perché uso il telefono Allora, però l'app delle mie sito al card di violetta E, un bacione Ah, mi sono scordata Allora, io pubblico questo video in YouTube Però voi non vi potete iscrivere perché io ho dei problemi Comunque, un bacione Potete soltanto vi dare mi piace o non mi piace e commentate Ciao, un bacione